Salve gente! In questo video ci sono alcuni annunci molto inverosimili, che ho creato io stesso. Vi auguro una buona visione. Annuncio ritardo. Il treno a ritardo Reggio Express, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, arriverà con un ritardo previsto di tre giorni, perché il macchinista si è influenzato. Ci scusiamo per il disagio. Annuncio cancellazione treno. Il treno alta velocità Fraccia Rossa, 9513, di Trenitalia, previsto in arrivo da Torino Porta Nuova e diretto a Napoli Centrale, delle ore 7 e 10, oggi non è stato effettuato, perché il personale del treno si è rotto di portare i pendolari avanti e indietro. Mi scuso per il disagio, ma loro no. Informiamo i viaggiatori che il treno Servizio Ferroviario Metropolitano, linea 2, 4207, di Trenitalia, proveniente da Pinerolo, è diretto a Chivasso, delle ore 7 e 24, oggi viaggia senza aria condizionata, con i bagni fuori servizio, e con alta rumorosità. Questo perché è un convoglio composto da locomotiva 464 in testa e rimorchiate PR Farini. Non ci scusiamo per il disagio, perché negli anni 70 queste carrozze erano il top del top. Informiamo i viaggiatori che sui treni regionali e regionali veloci composti da carrozze medie distanze, se volete l'aria condizionata, dovrete farvi la doccia per tutto il tempo del viaggio, perché i tubi di scarico dell'acqua sono rotti. Trenitalia si scusa per l'inconveniente. Informiamo i viaggiatori che se si vuole scendere dal treno nella stazione di San Giuseppe di Cairo, bisognerà fare un salto di un metro perché la banchina è troppo corta per tutto il convoglio. Se siete in sedia a rotelle sono cazzi vostri. Il dirigente movimento si scusa per il disagio ed è pronto a prendere a calci chi ha qualche lamentela. Cervia. Stazione di Cervia. È vietato attraversare i binari, servirsi del sottopassaggio. Se non lo trovate, scavatelo. Attenzione! Treno in transito al binario 7, buttarsi sui binari. Attenzione! Si rammenta che nella stazione di Torino Porta Susa è vietato fumare. So che molti lo fanno, spero che vi vecchi la polvere e vi faccia la multa, altrimenti farete scattare i sensori di fumo e farete evacuare la stazione. Informiamo i Trainspotters che oggi il treno Intercity 519, di Trenitalia, ha un caimano in testa.